bene oggi abbiamo passato una bellissima giornata noi del gruppo Lati con Varese News abbiamo fatto una passeggiata di 9 chilometri partendo dal sito di Lati Vedano Lona per arrivare al nostro sito di Gornatolona proprio sotto il monastero di Torba che vedete alle mie spalle e abbiamo combinato il nostro amore per la natura quindi apprezzando il paesaggio circostante anche perché abbiamo attraversato una zona altamente antropizzata ma molto naturalistica e combinandolo anche con l'amore per la cultura perché noi come impresa vogliamo anche supportare la scoperta del nostro territorio anche visitando musei abbiamo visitato a Castiglione Olona il Museo Arteplastica che è anche legato insomma al cuore della nostra attività che è quella delle materie plastiche un museo che lancia l'idea che la plastica è bella è un bellissimo esempio di mecenatismo industriale degli anni 70 tutto da scoprire abbiamo poi visitato la collegiata con gli affreschi di Masolino da Panicale per poi finire con il Museo Branda Castiglioni quindi insomma un'immersione nella cultura e nella natura del nostro territorio un percorso che non si crederebbe ma è quasi interamente naturalistico perché passa dal quadronna che è un sentiero molto bello che scende alle fontanelle da lì si risale poi si costeggia la piana di lozza per arrivare nella zona subito sotto vedano industriale si scende a Castiglione Olona si entra nel vecchio borgo dopodiché si scende si entra nella ciclovia della valle Olona che arriva fino a Torba in questo posto si trova una uno dei quattro beni unesco della provincia di Varese il monastero di Torba e soprattutto è particolare perché qui è nata l'industria nell'ottocento tardo settecento l'industria della provincia di Varese la valle Olona era famosa proprio perché un corso d'acqua portava energia con tutto quello che significava un'esperienza interessante perché un gruppo di camminatori collegato all'azienda Lati ha potuto vivere questa esperienza in una giornata tra natura arte cultura e soprattutto tanta conoscenza di un territorio che pur in pochi chilometri è veramente molto ricco